Recandovi su Instant Gaming attraverso il link personale è sempre Natale, ogni giorno sconti su tutti i giochi, abbonamenti, ricarica del portafoglio e altri servizi di tutte le piattaforme di gioco, se vorrai risparmiare, link personale della collaborazione di Instant Gaming nella descrizione. Bella a tutti Orchetti se ne ho Orcuverde, in questo video vi mostrerò i contenuti che Rockstar Games ha rilasciato oggi, martedì, primo agosto, su Red Dead Online. Allora Orchetti, sono stati rilasciati due capi d'abbigliamento disponibili per l'acquisto nel catalogo come scorte limitate, insieme a tutte le loro colorazioni saranno disponibili per l'acquisto fino a lunedì 4 settembre, però tutte le colorazioni che acquisterete vi rimarranno poi per sempre. Questi capi d'abbigliamento sono i pantaloni concio, e i gille Cardozo. Qui Rinetto Orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete il video per supportarmi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto, seguitemi su Twitch, su Instagram e su tutti gli altri social, troverete tutti i link nella descrizione, in più vi invito a recarvi nella playlist dedicata ai glitch di Red Dead, perché lì troverete tutti i glitch presenti nella frontiera senza doverli andare a cercare nei video caricati, quindi nella maniera più comoda, organizzata e veloce. E da Orchoverd tuttora ci vediamo al prossimo video, bella!